Chi sarà il prossimo campione dell'Iron Fist? Voglio iscrivervi. Chi sarà il prossimo campione dell'Iron Fist? Vincere l'Iron Fist vuol dire possedere il mondo. Ti prego, sta attenti. Qui è in gioco la tua vita. Beh, vedrò di ricordarmelo. Qui è in gioco la tua vita. Qui è in gioco la tua vita. Qui è in gioco la tua vita.